Pronto? Pronto, buongiorno, stasci in tre, io per piacere, buongiorno. Senti, tu chi siete? Signora, non vi preoccupate, io sono bastanillo, un provocatore, buongiorno, anzitutto scusate dell'orario, stavate dormendo? No. Ah, ma amore di, eh, mi permise di chiamare in orario, io sono mattinino. No, per me, io sono bastanillo. Troccia, signora. Sì, però, pensate che chi l'ha morto. Eh, e voi siete la moglie? Sì. Ah, e allora, signora, praticamente noi abbiamo trentaquattro sacchetti giumento sul camion, ancora a nome Rabborano, ma però ora vi porto a voi, qui si dà la moglie, scusate. E io che nasce, insomma? Eh, signor, chiedo scusa, io non lo so, perché c'è arrivata un'ordinazione nella ditta. Oh, guardate, io che nasce faccio a me? Io sono una vecchia. Signor, calmate, non vi preoccupate, ora vediamo. Io sono dieci anni che è morto. Lo so, signor, può darsi che c'è stato un errore, un attimo su. No, guardate, buono, senti che mi ha buttato a cazzo i miei carini mobili. Ma voi abitate in un condominio, in una villetta, signor, giusto per capire? Guardate, ho il condominio, ho in una villetta, non me l'ho portata la gemente perché io non me l'ho presa. Allora, signora, io mo sono una persona perverda, anche sessantacinque anni, mo vi dico, se io torno nella ditta che roba un coppo camion, a me o basta mi fanno la cazzata, io ma voi porto lo stesso. No, 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 non me l'ha rabbiniere. No, signor, ma che lei è giumento, mi chiede la droga, scusate. Ma che cosa, vedi a mettere sta giumento? Ma non otterite uno spazio, a rammamento. Non tengo spazio. Signor, ma che lei è già stato pavato, sono 34 sacchetti. Non mi interessa, a me non mi interessa proprio. Ma voi non dovete cacciare neanche un euro, come faccio? Non lo voglio proprio. Signora, chiedo scusa se... Non sa che parlate, senza che chiedete scusa, a me la giumento non mi serve. Signori, allora, una volta che dite questo, io io porto a scaricare la cannazza da casa, e basta. Signor, guardate, le luce più anni che viene sta giumento, perché non è cosa migliore, perché stanno mettendo la droga. Signor, ma chi c'è sta sulla giumento, coppocam? Mi tengono un po' a fare roba, a me è una roba che ha malato. Ma io non tengo niente a fare, io sto arrivando in cinque minuti e sto soppiando, signor. No. Ma non tengo niente a fare, signor. Ma io non tengo niente a fare, signor. Ma io non tengo niente a fare, signor. Signor, ma scusate, ma almeno per un anicchio, un domani, una cappella, una cosa. Non mi serve. Ho capito, ma è una roba che ha malato. Non mi serve. Signora, io non voglio... Non mi serve, perché hanno mai scaricato il marito, ma è morto dieci anni. Oh, saggi, signor, che ha morto dieci anni fa, ma la roba c'ha portato stessa, perché è robusto. Non mi interessa, non lo ha fatto a mettere. Signora, calmiamoci, calmiamoci. Non mi calma, perché a me non mi serve la cimenta. Ma io tengo pure un bastadotto, coppocam? È vostra. Non mi interessa. Ma manca... Allora, signor, un secondo solo. Mò prendo nota. Allora, io vi faccio le chiamate, e voi vi dite se è vostro oppure no, e poi chiamate it e non vi porto. Però mi hai registrato. Allora, 34 sacchetti di cimenti? No. No. Pronto? Sì. Allora, hai da registrato o no? 34 sacchetti di cimenti sui posti? No. Ok, io mò registro. No. Ok. Un'ambastalotta è vostra? No. No. Ok. Una spezza casone è vostra? No. No. Un'attima che io sto registrando, così io faccio sentire un must. Eh. Poi abbiamo, allora, 35 quintali di cattillo sui posti? No. Neanche. Aspettate un attimo. Non ponte a prevedo, o vostro? No. E anche, è venuto qua. Non prevedo a prevedo, o vostro? Non è niente non mio. Manca che sta qua. E poi l'ultimo, signor, un attimo solo, fate un piripipo a poi, o vostro? Non è niente non mio. Signor, però mi ha da fare una soddisfazione, ma darà una sacchetta di cimenti e la voglio portare, una sola. Una sola. No, ma non mi interessa, perché io ne ho già da mettere. Signor, una sola, la potete mettere per sotto lì. Non mi interessa proprio. Certo. Io ne faccio che non faccia di meno. Magari era a pillare un buco, come c'è? No, non c'è nessun buco a pillare. Signora, allora, una volta che dici da così, io vengo lì che può scaricare tutto quanto. Va bene? Ma sentitemi un po' che a me. Eh, prego. Sentitemi un po' che a me. Prego, signor, sto sentendo. Voglio sapere. Eh. Io ho codice fiscale, tutte cose voglio sapere. Signor, allora facciamo, io mi vengo a casa vostra, io faccio vedere tutte cose, va bene? Ma però, sentite, io faccio due carabinieri qua. No. Eh, signora. Lei non mi serve. Voi faccio due carabinieri qua perché io tengo un buon accompagnamento a nome vostro. Voi mettete a fare pure un caffè a questo punto. Ci prendiamo un caffè, io vi scarico tutta la roba e me lo vado. Ma venite una volta che tu metti le altre vostre roba. Signora, ho podito pure venne, che l'ha un affare? Come va a cercare? No, 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 io non faccio niente. Signora, sono arrivato in due minuti, rapida a porzo, farà a porzo. No, non era da porzo, non era da nessuno. Allora voi scarica direttamente da porzo. No, non scaricate niente. Perché io non faccio niente. Che coi? Vabbè, me lo vaga, Carlo. Non faccio niente, no faccio niente. Va bene, appos, me lo vaga. Arriba di lui. Mi carina di la volta. Va bene, appos, me lo so è, no signora, non faccio niente. Amarone va accompagnare di Amarone. Va bene, arriva di lui.